Mercoledì 10 marzo dalla mezzanotte di oggi Pesaro come tutta la provincia di Pesorubino è entrata in zona rossa. Questo significa che ci sono forti limitazioni sia alle attività lavorative sia soprattutto agli spostamenti. Ora è mezzogiorno di appunto mercoledì 10 marzo e ci troviamo in Piazza del Popolo, una piazza in cui ci si può spostare solo per comprovate esigenze di lavoro, per attività essenziali, come fare la spesa e per rientro a proprio domicilio. Così come su tutto il territorio. Zona rossa significa un grosso cambiamento soprattutto per le attività commerciali. Da oggi serrande abbassate per tutti i negozi, perlomeno per tutte quelle attività di vendita al dettaglio che non forniscono servizi essenziali. Restano infatti aperte tutte le attività di vendita di genere alimentare, le edicole, i tabaccai, le rivendite di computer, le librerie, i negozi di articoli di cartoleria, di articoli sportivi, di fiori e piante. E naturalmente restano aperte farmacie, parafarmacie e anche negozi di cosmesi e di profumeria. Tra i servizi alla persona restano invece aperte pure le lavanderie. Noi continuiamo a lavorare, sicuramente sempre mantenendo tutte le procedure in base alle normative, quindi l'ingresso a solo una persona, comunque sempre la mascherina e vediamo come andrà poi la situazione. Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che non hanno però nessuna restrizione per quello che riguarda la consegna a domicilio, con l'asporto consentito fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto. Molte di queste restrizioni erano già presenti con i limiti di zona arancione. Diciamo che rispetto alla zona rossa le cose non sono cambiate molto, perché si può comunque consumare da asporto, però abbiamo visto la differenza, nel senso che in zona rossa è più tranquillo, ci sono molte meno macchine rispetto a prima, però ecco, noi siamo comunque aperti, garantiamo il servizio dalle 6 e 18, quindi noi ci siamo. Poi la speranza è sempre di ritornare come prima, di rivedere un po' di persone. E da oggi a casa, alunni e studenti di ogni età e di ogni grado di istruzione, con l'entrata in vigore della zona rossa infatti chiudono anche asili nido, scuole materne e scuole primarie, mentre la didattica a distanza era già cominciata da tempo nelle scuole superiori e dalla scorsa settimana anche in tutte le scuole medie. Le scuole non sono chiuse, c'è anche qui la presenza di docenti e personale per garantire la didattica a distanza. Resta invece consentita la didattica in presenza per gli alunni portatori di disabilità con bisogni educativi specifici e anche per le attività laboratoriali. La zona rossa comporta anche forti limitazioni all'attività motoria e sportiva. Qui ci troviamo al campo scuola di via Respighi con i cancelli chiusi perché l'accesso è consentito solo all'attività sportiva di livello agonistico riconosciute dalle coni, dal comitato paralimpico. Dunque gli amatori, gli amanti del jogging possono in questo caso effettuare la loro corsetta soltanto in prossimità delle proprie abitazioni come previsto dall'attuale regolamento. Da oggi serrande abbassate per barbieri, parrucchieri e centri estetici. Non capitava da maggio, non capitava dallo scorso lockdown. Ieri attività prese d'assalto per l'ultimo taglio e da oggi si chiude. Sembrava come Natale o due sabati insieme, quindi c'è stato appunto uno flusso enorme. Non ci aspettavamo di ripetere appunto una cosa, un ritorno della chiusura. Quindi ci auspichiamo vivamente che ritorni a una situazione alquanto normale. e noi siamo in sicurezza, vogliamo bene i nostri clienti e il nostro lavoro diciamo che nel sociale ha una certa importanza. Quindi auspichiamoci un miglioramento della situazione, ma per noi ma per tutta la società. Grazie a tutti.